Ciao a tutti, stiamo organizzando un tour nelle province lombarde per confrontarci con i cittadini a due anni dalla nostra elezione qui in Consiglio regionale. Gli incontri avranno lo scopo di informare i cittadini sulle nostre attività in Consiglio, sugli strumenti legislativi a nostra disposizione e sui nostri canali informativi. Durante gli incontri avremo occasione anche di confrontarci sugli strumenti di partecipazione, quelli che hanno funzionato, come per esempio l'ex Lombardia, e quelli che invece vanno migliorati, come ad esempio i gruppi di lavoro. Vi chiediamo anche un sostegno, una mano per organizzare gli incontri nei vari capovoghi di provincia e di rimanere sintonizzati sui nostri canali per tutte le informazioni e i dettagli del caso. Ci auguriamo che questi incontri saranno l'occasione per migliorarci tutti insieme nella nostra attività di portavoce e di cittadini informati. Ciao! Ciao!